Da dieci anni, Nordi Conad, in collaborazione con il Comune di Bologna, l'azienda USL e le cooperative sociali CEIS e CSA-PSA di Bologna, ha attivato il progetto di inclusione lavorativa. L'iniziativa è rivolta ai giovani a rischio e marginazione, extracomunitari e non, spesso residenti in istituzioni per l'infanzia. I ragazzi hanno l'opportunità di svolgere uno stage di tre mesi in un punto vendita, affiancati da un tutor. Se il percorso di formazione ha successo, viene avviato un ulteriore tirocino con possibilità di assunzione. Con il progetto di inclusione lavorativa, l'obiettivo di Nordi Conad è offrire la prospettiva di un'occupazione regolare a giovani in situazioni di disagio e creare maggiore integrazione sociale. In dieci anni, 500 stage si sono trasformati in 100 tirocini formativi e 26 assunzioni a tempo indeterminato. I supermercati coinvolti, a loro volta, hanno beneficiato dell'iniziativa entrando in contatto con giovani risorse che, in molti casi, hanno assunto ruoli di responsabilità all'interno dei punti vendita.